buongiorno oggi volevo farvi vedere come fare quest'altra presina alla forma di un pavone non è molto complicato ci vuole solo un pochino di attenzione a vedete la ruota ho fatto delle righe per delimitare le piume e poi ho fatto delle zampette ok vi faccio vedere cosa abbiamo di cosa abbiamo bisogno un uncinetto e diversi colori io ne ho utilizzati sei allora questi erano sul fatto tono del rosa adesso voglio farli sul tono del celeste vedete quindi ho preso 4 tonalità di celeste più il pan per la base e il bianco cominciamo allora prendo il filo panna e inizio a fare il mio pavone allora vi faccio vedere il retro guardate ho fatto un cerchio di maglie alte per cominciare quindi farò rifarò lo stesso cerchio ho fatto adesso il cerchio magico vedete blocco con una catenella e faccio altre due catenelle così ne ho tre che ho fatto la prima maglia alta in questo cerchio lavorerò in tutto 15 maglie alte questa è la prima ne farò altri 14 2 3 e così via fino a 15 ho fatto le mie 15 maglie alte stringo il cerchietto e chiudo il giro con una maglia bassissima sulla terza catenella in questo modo ho finito il primo giro secondo giro tre catenelle che sono la prima maglia alta ora in ogni maglia di base lavorerò due maglie quindi farò tutti aumenti da 15 maglie mi ritroverò con 30 maglie quindi ho fatto una e 2 3 e 4 2 maglie in ogni maglia di base fino ad avere 30 maglie arrivo alla fine ho fatto anche il secondo giro chiudo anche questo con una maglia bassissima sulla terza catenella della prima maglia ma così facciamo il terzo giro sempre 3 catenelle ora faremo una maglia alta e un aumento per tutto il giro quindi da 30 arriveremo a 45 la maglia alta l'ho fatta adesso farò l'aumento in questa successiva un'altra maglia alta in quella successiva e nella successiva ancora farò l'aumento quindi per tutto il giro una maglia alta e un aumento fino ad arrivare alla fine ed avere 45 maglie ho fatto anche il terzo giro chiudo anche questo con una maglia bassissima sulla terza catenella di inizio ecco qui faccio adesso il quarto giro con il color panna quindi 1 2 e 3 ancora ora farò due maglie basse quindi questa è la prima questa è la seconda 2 maglie basse e nella terza l'aumento 2 maglie basse e 2 e nella terza l'aumento questo sempre per tutto il giro e avrò alla fine 60 maglie ho fatto anche il quarto giro e chiudo anche questo sulla terza catenella d'inizio in questo modo adesso taglio il filo perché devo cambiare il colore ecco qui ho fatto la prima parte prendo il colore con cui farò la rifinitura questo eccolo qua quindi togliamo il pan e prendiamo questo mi aggancio in un punto qualsiasi qui per esempio che comincia a lavorare maglie basse lungo il lavoro allora faccio la prima catenella per bloccare e faccio la prima maglia bassa col filato di contrasto allora a questo giro avevo lavorato due maglie alte e un aumento adesso farò 3 maglie basse e un aumento quindi 123 maglie basse e un aumento 123 maglie basse e un aumento questo fino a lasciare 19 maglie senza lavorare quindi andiamo avanti facendo 3 maglie basse un aumento e ci facciamo rimanere 19 maglie allora sto facendo il giro a maglia bassa ho fatto l'ultimo aumento faccio un'altra maglia bassa e mi restano giusto 19 maglie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 16 17 18 e 19 quindi chiudo e taglio allora siccome questi fili io li avevo già fermati mentre lavoravo li taglio così non mi danno fastidio ora sopra questa base scura comincerò a fare le piume prendo il colore più chiaro perché così ho deciso di fare cioè andare dal più chiaro alla parte più scura e sulla prima maglia qui del colore scuro mi aggancio con una catenella e faccio altre 2 catenelle quindi in tutto 3 vado a lavorare sempre in questa maglia un'altra maglia alta perché quelle 3 catenelle erano la prima maglia alta faccio una catenella di separazione e sempre nella stessa maglia lavoro altre due maglie alte una e due passo direttamente alla quarta maglia quindi risalto 3 1 2 3 nella quarta lavoro di nuovo due maglie alte una e tre e due una catenella di separazione e altre due maglie alte una e due salto sempre 3 1 2 3 nella quarta vado a lavorare di nuovo il gruppo di una due maglie alte una catenella di separazione e due maglie alte continuo così su tutto il giro in blu quello scuro diciamo quando arriviamo alla fine vi faccio vedere allora sto facendo come vedete i miei ventaglietti sono arrivata qui adesso dovrei lasciare come prima 1 2 3 nella quarta farlo puoi lasciare ancora 1 2 3 nella quarta farla ma mi avanzano due maglie quindi siccome posso aggiustarlo posso fare in questo modo invece di 3 ne lascio 4 e quanti fatti e quindi faccio 1 2 3 e 4 lavoro nella quinta 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 3 lascio 4 pure questa volta e vado a lavorare nell'ultima qui 1 e faccio 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 5 6 5 6 6 del ventaglietto qui dove ho fatto la catenella mi aggancio e faccio una 2 e 3 catenelle faccio poi un'altra maglia alta come avevo fatto prima e questa volta faccio invece di una di separazione 2 catenelle e per il lavoro di nuovo le mie due maglie alte vado direttamente nell'archetto successivo in mezzo alle maglie alte e vado a rifare sempre una due maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte 2 magliette archetto successivo 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte questo per tutto il giro quindi l'unica differenza che abbiamo col giro precedente e che invece di una catena di separazione ne facciamo due arriviamo qui alla fine e chiudiamo come abbiamo fatto al giro precedente ho fatto anche questo giro quindi taglio e chiudo in questo modo prendo il colore successivo un po' di più un po' di più ricomincio sempre qui dall'inizio sempre con le mie 3 catenelle 1 2 e 3 adesso invece di fare un'altra sola maglia alta ne faccio 2 quindi una e due maglie alte in tutto ne ho fatte 32 catenelle di separazione altre 3 maglie alte sempre nello stesso archetto 2 e 3 vedete passo nell'archetto successivo e faccio di nuovo il ventaglietto fatto da 1 2 3 maglie alte 2 catenelle di separazione e 3 maglie alte ok e la terza vedete quindi questo giro sarà fatto da 3 maglie alte 2 catenelle di separazione 3 maglie alte in ogni archetto fino alla fine ci vediamo dopo sono arrivata all'ultimo ventaglietto quindi 1 2 3 maglie 2 catenelle e 1 2 e 3 maglie chiudo e taglio il filo ecco fatto il terzo giro prendiamo un altro colore prendo un blu ancora più scuro faccio sempre la stessa cosa mi aggancio al centro faccio le mie 3 catenelle 1 2 e 3 e poi faccio altre due maglie alte 1 e 2 faccio 2 catenelle di separazione e faccio altre 3 maglie 1 2 e 3 passo al ventaglietto successivo e dentro lavoro 3 maglie alte 2 catenelle di separazione e 3 maglie alte questo per tutto il giro quindi farò un giro uguale al quello precedente aspettate che si è intrecciato un po di filo qui come sempre faccio ho fatto le prime 3 maglie catenelle di separazione 2 catenelle e altre 3 maglie 1 2 e 3 passiamo al ventaglietto successivo e ancora 3 maglie 2 catenelle 3 maglie 3 maglie 2 catenelle e 3 maglie 1 2 e 3 questo lo facciamo per tutto il giro fino ad arrivare qui sono arrivata all'ultimo ventaglietto quindi faccio 1 2 3 maglie alte 2 catenelle e 3 chiudo e taglio il filo ecco qui abbiamo fatto le piume del pavone diciamo adesso con lo stesso filato vado a lavorare il corpo questo infatti anche all'altra presina l'avevo fatto con l'ultimo colore per lavorare il corpo faccio in questo modo giro il lavoro e lascio 1 2 3 4 maglie vado a lavorare nella quinta maglia quindi 1 2 3 e 4 nella quinta ma prendo solo la solina anteriore quindi lascio libera la solina posteriore prendo il filo faccio la catenella nel lavoro la prima maglia bassa vado nell'altra sempre in costa davanti quindi prendendo sempre e solo la mia solina vicina anteriore lavoro ancora maglia bassa nel lavoro 11 sempre in costa anteriore 2 3 4 5 come vedete mentre sto lavorando sto bloccando anche il filo d'inizio 5 6 7 8 adesso è bloccato lo posso lasciare 9 10 e 11 me ne devono restare altri quattro da quest'altra parte 1 2 3 4 vedete mi è rimasto la costina posteriore libera mi servirà poi per fare le zampine giro il lavoro e adesso faccio una catenella per alzarmi e un aumento sulla prima maglia quindi 1 e 2 lavoro poi tutte maglie basse fino alla fine dove andrò a fare un altro aumento e avrò quindi 13 quindi ecco sono arrivata alla fine questa è l'ultima maglia e qui faccio l'aumento 1 e 2 sempre catenella per girare questa volta lavoro le maglie così come si presentano 13 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 e 13 15 catenella e faccio aumenti a destra e a sinistra quindi qui al primo faccio un aumento lavoro fino alla fine faccio l'ultimo aumento e quindi saranno 15 ho fatto gli aumenti sono 15 faccio di nuovo la catenella per girare e lavoro due giri da 15 quindi una maglia su una maglia sulla maglia sottostante quindi due giri da 15 a dopo ho fatto i miei due giri da 15 catenella per girare e adesso comincio le diminuzioni quindi quindi faccio prima maglia e non la chiudo seconda maglia non la chiudo e chiudo insieme ho fatto la prima diminuzione quindi uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci dieci undici dodici adesso ne sono rimasti due quindi faccio una maglia non lo chiudo una maglia non lo chiudo insieme e sono tredici o tredici maglie giro e faccio la mia catenella faccio ancora un'altra diminuzione quindi prima maglia non lo chiudo seconda maglia non lo chiudo chiudo insieme uno due tre quattro cinque sei sette otto nove maglia non chiusa e maglia non chiusa chiusa insieme e do undici maglia faccio la catenella per girare e vi faccio vedere come sta a venire allora questo è il dritto e questo è il corpo che poi va piegato da questo lato in questo modo vedete sto facendo questa parte che poi riferirò intorno ancora diminuzioni faremo tutte diminuzioni fino ad arrivare a tre maglie quando ci resteranno solo tre maglie quindi diminuzione a destra e sinistra fino ad arrivare ad avere solo tre maglie centrali ci vediamo dopo allora ho fatto l'ultima diminuzione o tre maglie catenella per girare ora faccio due giri da tre maglie quindi una due e tre e il primo giro catenella per girare uno due e tre e il secondo giro catenella per girare adesso rimomentiamo per fare la parte della testina qui quindi facciamo due maglie quindi sono due quella centrale normale sono tre e l'ultima l'aumento e diventano cinque uno e due sono cinque catenella per girare adesso facciamo allora catenella per girare adesso facciamo un giro da cinque quindi 1 2 3 4 e 5 catenella per girare e facciamo un giro di aumenti quindi arriviamo a 7 1 e 2 al primo poi facciamo 3 maglie normali 3 4 e 5 nell'ultima facciamo 2 mai e 6 e 7 catenella per girare un giro da 7 catenella per girare un giro da 7 1 2 3 4 5 6 e 7 catenella per girare un giro da 7 1 1 2 3 4 5 6 e 7 catenella per girare e facciamo la diminuzione quindi una diminuzione all'inizio 3 maglie centrali e 3 maglie centrali ultima diminuzione 1 e 2 catenella per girare e facciamo l'ultima diminuzione quindi una all'inizio quella centrale la lavoriamo e una alla fine e chiudiamo il lavoro ecco abbiamo fatto il corpo del pavone lo mettiamo qui e vi faccio vedere ecco qui adesso bisogna solo rifinirlo tutto intorno a questo punto se volete fare una presina più consistente potete fare un'altra presina senza fare questo senza fare la testa identico alla parte fin qua e poi adesso che andiamo a rifinire prendendole indieme l'una e l'altra che abbiamo fatto potete fare la presina più consistente se invece la volete come questa lavoriamo adesso tranquillamente cominciamo a fare le rifiniture allora prendiamo il filato con cui abbiamo fatto la parte qui questa quindi questo azzurro più forte e cominciamo a fare la rifinitura faccio prima la rifinitura qui al corpo prendo il filato e mi aggancio qui all'inizio qua proprio all'inizio in questo punto e faccio una catenella così ora comincio a lavorare intorno intorno con maglie basse quindi ecco una maglia bassa 2 maglie basse 3 maglie basse 4 maglie basse vedete tutti intorno 5 maglie basse 6 mi faccio vedere questo il dritto vedete sul dritto così in questo modo arrivo fino alla fine e chiudo lavorate tranquillamente intorno 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 a dopo allora sono arrivata in cima qui alla testa all'angolo ne faccio 3 1 2 e 3 di maglie basse per girare in questo modo così vedete vedete ne vado a fare uno al centro qui e adesso che ho fatto questo al centro vado a fare la cristina mi faccio vedere vedete aspettate la cristina allora la cristina io l'ho fatta così una due tre quattro catenelle e faccio mi aggancio alla base della maglia bassa tipo pippiolino da quattro diciamo ne faccio ancora uno due tre e quattro catenelle e mi aggancio di nuovo qui alla base e ne ho fatto due di pippiolini faccio uno due tre quattro e mi aggancio sempre qui alla base ho fatto tre pippiolini che fanno la cristina vedete adesso vado nell'altra maglia nell'ultima e ne vado a fare tre per girare una due e tre così riesco a girare e poi riprendo il laterale vedete adesso torno indietro fino alla fine sono arrivata alla fine e chiudo ecco qui a questo punto per quanto riguarda il corpo devo solo attaccare gli occhietti e ricamare il beccuccio ora facciamo la rifinitura intorno intorno per fare queste righe che delimitano le piume quindi riprendiamo sempre lo stesso filo togli qualche filo che così non mi da fastidio riprendiamo lo stesso filo e mi aggancio questa volta qui vicino al blu del corpo in questo modo infilo il filo l'uncinetto e prendo il filo lavoro sempre sul dritto naturalmente del del pavone catenella e maglia bassa una maglia bassa un'altra maglia bassa e un'altra maglia bassa sono quattro maglie basse quindi vi faccio rivedere mi aggancio tiro fuori la catenella e lavoro una maglia bassa due maglie basse e tre maglie basse e quattro maglie basse avevamo infatti lasciato quattro maglie a destra e a sinistra vedete anche di qua una due tre e quattro dal corpo ora cominciamo a lavorare lungo questo bordo quindi una maglia bassa la facciamo qui alla giuntura una sola riga blu due lungo la prima maglia alta passiamo alla seconda maglia alta ne facciamo altri due ancora sull'ultima maglia alta uno e due siamo arrivati qui vedete alla cima ora qui ne facciamo una in più per girare e poi lavoreremo sopra le maglie quindi una due due ora nell'archetto ne lavoreremo due uno e due tre sulle tre maglie una due e tre maglie basse vi faccio vedere allora ho lavorato due sulla prima due sulla seconda due sulla terza e due sulla quarta all'angolo ne ho fatte una in più due su queste sulle due che mi erano rimaste perché la la prima l'avevo lavorata due al centro e tre ora vado a fare questo per fare questo faccio in questo modo allora faccio una maglia quadrupla una due tre e quattro vado ad infilarmi nella maglia centrale qui in fondo così allora faccio vedere faccio rivedere una due tre e quattro vado nella riga blu qui al centro e prendo la maglia in questo modo vado a prendere il filo e strago prendo il filo e strago di nuovo prendo il filo e passo due ora vado a prendere tra le prime la prima riga qui sul bianco a me tiro fuori il filo prendo due e prendo due di nuovo vado sulla terza riga estraggo il filo prendo i primi due riprendo il filo e strago i secondi due ora vado alla terza riga estraggo una due vado all'ultima riga tiro fuori il filo e con una sola volta chiudo tutte e tre le maglie vedete ora continuo a lavorare una due tre maglie sulle tre maglie alte due nell'archetto due maglie basse nell'archetto tre maglie sulle tre maglie alte uno due e tre sono arrivata a fare la seconda riga quindi di nuovo vi faccio rivedere con calma uno due tre e quattro volte il filo vado a prendere la maglia bassa in fondo inserisco il filo prendendo tutte e due le asoline non so se si vedono tutte e due le asoline prendo il filo con cui lavoro e lo estraggo prendo il filo e strago una sola volta questo prendo il filo e strago due maglie una e quella che ho sull'asola sull'uncinetto ora vado a prendere il secondo giro questo in bianco per me quindi la stessa cosa prendo il filo e lo tiro sull'uncinetto prendo il filo e chiudo due asole una e due le prime due così vado a prendere il terzo giro estraggo e chiudo prima due e poi due quarto estraggo prima due e poi due lo faccio rivedere torniamo indietro quindi uno due tre e quattro volte il filo sulla maglia bassa prendo e estraggo il filo prendo estraggo il filo su un'asola prendo estraggo il filo in due asole vado al primo giro di ventaglietti prendo il filo e tiro sull'uncinetto prendo il filo e ne prendo due di asole sull'uncinetto prendo il filo e ne prendo altri due vado al giro successivo del ventaglietto estraggo prendo due asoline prendo il filo e ne prendo altri due vado al terzo giro ho quattro fili sull'uncinetto ne prendo due ne prendo due me ne sono rimasti due vado sull'ultimo filo estraggo e con una sola volta chiudo tutto e ricomincio a fare le mie maglie basse quindi una due e tre due al centro una e due una due e tre vedete ve lo faccio vedere per l'ultima volta e poi finita fino alla fine quindi uno due tre e quattro prendo e ne ho due prendo e ne tiro fuori uno prendo ne tiro fuori due vado al secondo giro prendo ne tiro fuori 2 ne tiro fuori 2 vado al quarto ne tiro fuori due, ne tiro fuori due, vado al quarto, due, due, vado all'ultimo e li prendo tutti insieme. Ecco qui. Andiamo così avanti fino ad arrivare qui dove riprenderemo a fare le maglie basse fino al corpo. Mi aggancio al bianco e faccio 1 e 2 volte, mi aggancio all'altro giro e faccio 1 e 2 volte, mi aggancio al penultimo e faccio 1 e 2 volte, mi aggancio all'ultimo e chiudo tutti insieme. Ancora sull'ultimo ventaglietto, 1, 2, 3, sulle maglie alte, 2 nell'archetto e 1 e 2 sulle maglie alte, sulla terza ne vado a fare un'altra, 3 e poi ne faccio 2 girando lungo la maglia alta, così, vedete? Ne faccio una in più perché così giro, faccio 3 e salto a quella successiva, ne vado a fare altri due, 1 e 2, vado a quella successiva, ne lavoro altri due come ho fatto dall'altro lato e 2, vado all'ultimo, 1 e 2, vado a fare una maglia bassa sul giro di maglie basse, una maglia bassa qui all'aggancio e 4 maglie basse lungo le maglie alte del quarto giro, 2, 3, 4 e adesso mi aggancio con una maglia bassa qui, all'inizio, alla fine della rifinitura del corpo, in questo modo chiudo e lascio il filo lungo per rifinire poi nasconderò tutti i fili avete visto? ecco qua il mio pavone adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6 così poi farò in cima la solina per attaccare adesso vado qui in fondo, giro il lavoro e prendo il filato giallo eccolo qui prendo il filato giallo lascio 2 maglie mi aggancio qui alla terza allora prima di fare le zampine col giallo come vi stavo dicendo possiamo cucire con l'ago appunti nascosti il corpo del nostro pavone a cuda diciamo con l'ago cuciamo tutto intorno così in modo che non si muova vedete come ho fatto io qui e poi andiamo a fare le zampine quindi voi potete cucire con l'ago e poi facciamo le zampine quindi ritorniamo alle zampine allora avevo detto che lasciavo i primi due mi aggancio al terzo in questo modo e faccio la mia prima catenella una ne faccio otto in tutte due tre quattro cinque sei sette e otto torno indietro lavorando tre maglie basse una due e tre maglie basse faccio altre quattro catenelle uno due tre e quattro torno indietro il lavoro tre maglie basse una due e tre maglie basse faccio altre quattro catenelle due tre e quattro e lavoro di nuovo tornando indietro tre maglie basse una e tre ora vado a fare una maglia bassa qui per unire tutte e tre le zampine vedete torno indietro lavorando sulle catenelle che me ne sono rimaste quattro mezze maglie alte quindi faccio una mezza maglia alta due mezze maglie alte tre mezze maglie alte e quattro mezze maglie alte vedete mi vado ad agganciare saltando una con una maglia bassa così faccio un'altra e due maglie basse una e due quindi in mezzo ne ho fatte tre vedete e rifaccio di nuovo qui c'è un po' di filo intrecciato come sempre e rifaccio di nuovo le mie otto catenelle iniziali una due tre quattro cinque sei sette e otto torno indietro lavorando tre maglie basse una due e tre maglie basse una due e tre e quattro torno indietro lavorando le mie tre maglie basse di nuovo quattro uno due tre e quattro torno indietro lavorando sempre le mie tre maglie basse una maglia bassa per unire tutti insieme in questo modo e poi quattro maglie mezze maglie per tornare indietro sul lavoro una due tre e quattro blocco tutto sul corpo del pavone con una maglia bassissima in questo modo e chiudo taglio il filo e poi naturalmente nasconderò tutti i fili vedete ho fatto le zampine ho fatto le zampine ho fatto il corpo adesso non mi resta che ricamare il becco e attaccare gli occhietti vedete spero che questo tutorial sia stato di vostro gradimento alla prossima arrivederci